Marchione era, io sono stato, credo, il suo o uno dei suoi, non cerco di vantare, probabilmente quello più vicino. E dunque come lui aveva un ruolo, aveva un piede, si portava dietro te, e allora si portava a me una volta a barra due la settimana tra Detroit e Torino. Facciamo i pendolari, era un massacro, anche perché lui non dormiva, e dunque nell'aereo, premiamo di notte l'aereo, perché il giorno si lavora, giustamente, ma la notte, che si fa la notte? Si gioca a poker. Ma come? E si beve grappa. In aereo, bevevate grappa? E si ascolta musica, era la persona più cool del mondo, tu l'avresti adorato. Eravate delle rockstar. Ma se vuoi io ogni tanto dormire, non fa del tutto schifo, non si dormiva, non si dormiva perché si dormiva quando lui aveva vinto.